Nuovi interventi sul territorio di Gandino nella frazione di Barzizza, la piazza di riferimento della frazione sarà rimessa a nuovo? Sì, questo è un progetto di rigenzione urbana dei borghi storici, l'amministrazione precedente Castelli ha ricevuto questo finanziamento, è stato fatto il progetto definitivo esecutivo e in questi giorni è stato dato l'appalto che ha vinto la dita alle grenzi di Clusone e quindi ci sarà questo intervento notevole di oltre 800 mila euro per quanto riguarda la sistemazione della piazza. Ma su Barzizza non abbiamo terminato, questo lavoro che è a seguito di lavori già fatti da parte di Uniacqua e di Unigas per la sistemazione delle tubazioni in quella zona, prevederà poi anche il prossimo intervento che è quello della realizzazione di un bar pizzeria a ristoro a Barzizza, proprio su questa piazza, proprio perché oltre all'investimento di tipo strutturale della piazza con le pavimentazioni in pietra eccetera, l'obiettivo è l'illuminazione che è già stata fatta, fa rimanere anche che ci sia un luogo di ritrovo per consentire alla frazione di ritornare ad avere una certa vitalità che è avvenuta meno a seguito della chiusura della pizzeria Capriccio di un paio di anni fa, che oggi invece richiede, richiede proprio che la frazione ha quasi mille abitanti, richiede di avere un luogo fisico anche di ritrovo per tutta la comunità. Crediamo che questo intervento, noi la chiamiamo la proloco di Barzizza, intesa luogo proloco come c'è oggi a Gandino, dove ci sono le attrezzature e gli spazi sportivi della Gandinese e del bar eccetera, il tennis eccetera, come elemento di aggregazione. La frazione ne ha diritto, è importante e la nuova consulta che è stata recentemente eletta e con cui abbiamo già avviato una serie di interlocuzioni sarà il primo soggetto con cui discuteremo le modalità di avviare questa nuova vita, questa vitalità della comunità di Barzizza. Nel particolare come si diventerà questa piazza? La piazza prevede appunto una serie di delimitazioni, si creerà anche un allargamento della piazza all'ingresso di questo futuro, futuro locale di ritrovo che sono locali del comune dove c'è la sala civica e dove c'è il monumento e quindi in quello spiazzo lì verrà realizzata la possibilità poi di avere anche un interno esterno di utilizzo del locale. E poi invece la piazza ovviamente con la paventazione in pietra come c'è già in piazza di Gandino e l'augurio e l'auspicio come amministrazione di riuscire a fare la stessa cosa anche a Cirano proprio perché riteniamo che i nostri tre borghi storici, il centro di Gandino, il centro di Barzizza e il centro di Cirano meritano una valorizzazione e questo passa anche dagli interventi di tipo strutturale come appunto la nuova pavimentazione. Ovviamente la vita di una comunità è legata anche a delle attività anche commerciali presenti. Con l'operazione che vogliamo fare appunto a Barzizza del bar e del ristoro ci sarà anche questo intervento. Su Cirano stiamo studiando delle modalità per far rimanere che anche lì ci possa essere una vitalità e un riavvio delle attività commerciali.